dobbiamo chiedere quando acceleriamo non dobbiamo andare ma con non contemporaneamente si surriscalda ma se lo riesce a farla con qualsiasi mezzo è importante che accelera ai freni non servono gli arrivi in braccio gli arrivi stessa rumore del generatore e non 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 se lo aveva lì ah ottimo se lo aveva lì se lo aveva lì ah in su no no in su in su no se lo aveva lì si non lei se sin non 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 no la voglio portare ancora più indietro ok no 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.